Una delegazione di magistrati, funzionari dell'Agenzia per la gestione dei beni sequestrati e confiscati e di funzionari di polizia serbi, è giunta a Reggio Calabria per una due giorni di incontri volte a conoscere le procedure e le modalità di aggressione ai patrimoni della criminalità organizzata previste dal nostro ordinamento. La delegazione straniera guidata dal dottor Alexander Vujicic, giudice della Corte d'Appello di Belgrado, ha scelto Reggio Calabria perché ormai da tempo in prima linea nella lotta alle mafie e soprattutto nell'attività investigativa rivolta all'aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati. La nostra normativa ormai è all'avanguardia in tutto il mondo, ci viene invidiata, funziona, funziona benissimo, c'è ormai un'esperienza che è più che trentennale, anzi diciamo che è un'esperienza ormai quarantennale e che ha dato dei grossi risultati. Adesso il problema, ripeto, è gestire soltanto i beni perché ci sono una serie di problematiche di natura proprio tecnico-amministrativa che va affrontata per evitare che questo patrimonio in un qualche modo poi perde di valore che non sarebbe neanche giusto e soprattutto non sarebbe un per esempio. Ecco, secondo lei, signor generale, mettere questo patrimonio a disposizione dei privati potrebbe essere una soluzione? Anche perché abbiamo visto che sino a questo momento, gestito dagli enti, comunque non ha dato granché dei risultati. Lei capisce che io non mi posso sostituire all'autorità politica, no, nella individuazione dei criteri più adeguati. Io dico soltanto che tra i beni confiscati sicuramente c'è il profilo delle aziende che laddove gestite dai privati potrebbero probabilmente dare dei risultati migliori, ma per un fatto puramente manageriale e tecnico-gestionale. Ovviamente questa soluzione, che so che è anche sostenuta da una parte della magistratura, ha dei profili di negatività. Il rischio, tra questi, dicevo prima, il rischio che questi beni possano in qualche modo, direttamente o indirettamente, tornare della disponibilità dei mafiosi e questo francamente ci dispiacerebbe. Ma questo il procuratore Gratteli ha risposto, diceva, beh, se li comprano noi gliele riprendiamo. Questo l'ho detto anch'io e ho capito, però se potessimo evitare questi sforzi, potessimo destinarli a queste risorse, ad altre attività, forse potremmo, cioè non è detto che la cosa sia incompatibile, voglio dire, no, potremmo anche raddoppiare i benefici. Grazie.